Musica Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni Musica Cari amici, bentornati all'appuntamento col meteo di TV6 Per quanto riguarda questo mercoledì si prospettua una giornata ancora molto stabile al sud Mentre al centro e al nord aumenteranno gradualmente le nubi per effetto di una perturbazione atlantica Che pian piano proverà a scalfire la vasta coppola anticiclonica subtropicale che alleggia sul Mediterraneo centrale Andrà certamente peggio al nord, qui avremo degli equazioni e qualche intenso temporale Sul centro Italia prevarranno nubi alte ma che non porteranno particolari fenomeni In Abruzzo è una giornata complessivamente stabile però dominata da queste nubi alte Velature, cirri come nubi innocue che non arrecheranno piogge o temporali Sovrasteranno però tutta la regione, specie tra pomeriggio e sera Ne conseguirà un aumento delle temperature massime tra i 30 e i 32 gradi Quindi comunque si farà sentire l'aria più calda proveniente dai quadranti meridionali Che porterà ad un incremento dei valori sia nelle minime che nelle massime Comunque valori abbastanza gradevoli in piena notte all'alba Minime anche al di sotto dei 20 gradi Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e a tutti voi una buona giornata Letizia Costruzioni Realizziamo i tuoi sogni Grazie per la visione Grazie a tutti.